Alza le mani o faccio una strage. Se alza le mani, li cade il bambino. Cuori i soldi e niente scherzi. La nostra sola ricchezza è nelle nostre braccia, signore. Siamo venuti in cerca di lavoro. Ritereste una palla in fronte solo per questo. Posso? Oh, grazie. Ma se tutti gli uomini fossero generosi come voi... Ti dovreste rapinare dalla mattina alla sera. Comprategli un'altra bottiglia di whisky e guariranno. Se tutti gli uomini fossero generosi come voi... Diventereste milionari. Quando il pellegrino penitente o il viandante affaticato bussa la nostra porta, noi lo salutiamo dicendo, sia lodato Gesù Cristo. E l'altro risponde, sempre sia lodato. Ah, adesso ho capito, sempre sia lodato. Va bene. Se questo lucifero si fa rivedere, diteli di andare al diavolo. Che il signore vi accompagni. No, andiamo da soli. Ma che cosa fai là? Cosa faccio qua? Sono di servizio. Sul muro? Eh già, sul muro. Il mio capitano mi ha ordinato di... di tenere d'occhio il muro. E così... Che... Che... Grazie a tutti.